Lui è Yuri Sannino, è un poliziotto che per difendere una donna a Torbella Monaca, a Roma, da un uomo che la stava aggredendo, si è preso 15 centimetri di coltellata al petto e al polmone. Lui è uno di quegli uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per stipendi totalmente inadeguati e in condizioni tragiche. Voglio raccontare questa storia oggi perché ieri ci sono stati alcuni episodi di carabinieri che si sarebbero macchiati di reati, vedremo se poi le cose saranno confermate e per carità, per il rispetto che io ho per la divisa, se qualcuno tra gli uomini e le donne in divisa sbaglia deve avere una pena esemplare, ma non si utilizzi il caso di un singolo per far finta che per un singolo che sbaglia ci sono migliaia, decine di migliaia di questi esponenti delle nostre forze dell'ordine che ogni giorno per noi rischiano la vita e che vengono dimenticati perché il signore che ha quasi ucciso Yuri se fatto sei mesi di carcere sta già fuori.